Giovedì 19 agosto, San Ludovico. È il 231esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 134 al termine. Il sole sorge alle 6 e 16, tramonta alle 20 e 11. La luna sorge alle 18 e 40, tramonta alle 2 e 19. La flotta veneziana, al comando dei Nicolò Pisani, affronta quella genovese di fronte al porto di Alghero, in Sardegna. Dopo una cruenta battaglia, i nostri catturano 41 navi genovesi e soltanto 19 altre, con a rimorchio l'ammiraglia del comandante Antonio Grimaldi, riescono a fuggire. Le previsioni per domani. In pianura, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento sulle zone pedemontane. Sulle zone montane, moderata variabilità con annuvolamenti irregolari alternati a schierite, con possibili locali rovesci e temporali. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in ulteriore lieve aumento. Grazie a tutti.